e bella tutti i giorni in quest'anno questo video sempre da posto appunto l'ho fatto ieri per parlare cioè in realtà oggi farò due video ma uno lo carico domani il primo è su Messi questo qui Messi che appunto è arrivato al Paris Saint Germain già ieri, già si sapeva comunque da qualche giorno che sarebbe andato lì e appunto ci sono anche i soci del Barcellona che vorrebbero insomma fare una insomma vorrebbero fare causa al PSG perché loro hanno questa regola in liga che tu devi avere un rapporto tra il fatturato e gli stipendi, il 70% cioè il 70% rispetto al fatturato che tu fai, non possono essere maggiori, quindi infatti il Barcellona adesso lo sta messo un po' male perché infatti Messi non lo hanno potuto ottenere lui sarebbe rimasto però si era pure dimensato il 50% lo stipendio, ma il problema è che molti dicevano anche eh Messi Messi si devi prendere appunto cioè devi giocare gratis che schifo non è voluto annunciare i soldi e tutto quanto ma non sanno le persone che c'è anche un'altra legge sempre da loro che tu non puoi giocare cioè in liga non puoi giocare con il 50% nemmeno lo stipendio l'anno prima lui poteva anche fare che stanno giocando il 50% di meno però la loro cosa sarebbe dovuto riabbassare lo stipendio ma non poteva nemmeno poteva giocare un anno gratis beh fare un anno gratis e comunque anche anche se avessero potuto il Barcellona è stato tipo comunque supera la cosa anche se avessero messo la metà dello stipendio stava quasi al 100% 95 e non poteva farcela quindi messo doveva andare via però con questa cosa il Barcellona hanno voluto vogliono fare appunto questa cosa di denunciare insomma il PSG che il PSG ha una cosa come il cioè come il 99% tipo dei ricavi diciamo c'è un anno di stipendio il secondo ruolo non è possibile vedremo insomma come andrà a finire speriamo che gli facciano qualcosa perché veramente se vengono Mbappé già potrei capire ma siccome è difficilissimo perché non penso che Real Madrid possa realmente appunto prendere Mbappé non fa un presto e poi pagano due anni dopo non c'è no non credo comunque quindi Messi ha detto che da questo ho capito che si era la maglia numero 30 è andato a Parigi adesso vive una nuova insomma esperienza e vediamo è difficile vederlo a Parigi dopo che ha fatto comunque 21 anni nel in Barcellona e vedremo insomma ha fatto una cosa come più quasi 700 gol e se non li ha superati magari ci sono partite non ufficiali in cui li ha superati 700 gol ha fatto quasi 700 partite con il Barcellona veramente sarà veramente un cambiamento epocale comunque il fatto di non vedere più insomma Messi al Barcellona anche perché poi dalla come la MSN era Messi su Alex Neymar o dalla NSM Neymar su Alex Messi adesso vedremo la MSN no vedremo la MSN MSN che sarà no ho sbagliato MNM scusate MNM sempre Messi Neymar Mbappé si scusate MNM Messi Neymar Mbappé e vedremo insomma sarà una godura comunque vedremo tipo il PSG che perde una partita perché dicono ecco questa squadra non perde una partita diciamo che da quello che ho capito qualche tempo fa c'era la Supercoppa di Francia e già l'hanno persa quindi vabbè però diciamo che c'è tipo una Francia non è come non è come in Inghilterra che tu che tu dici bene o male oppure comunque in Italia un minimo bene o male cioè sono quelle squadre e quelle squadre se la battaglia in Inghilterra tutte probabilmente possono anche non cercare la prima fase però per domani sono quegli altri campionati un po' ci sono delle squadre che riescono comunque da filo da torce invece in Francia è molto difficile cioè a parte quest'anno è l'anno del Monaco dove c'era Mbappé proprio cioè è difficile che per San Germain non vinca cioè se non vincono la Champions veramente 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 uno schifo se non vincono la Champions veramente cioè veramente cioè veramente vado là e vabbè niente comunque fatemi fare cosa ne pensate i commentati se lo scrivi e ce ne las posso dire ricordati mancano meno 3 iscritti ai 150 dai quindi quindi